Io non vivo senza te e non so come dirtelo, perché uno come te non saprei inventarmelo. Do fare i fiocchi. Come si fanno i fiocchi delle chiacchiere? Il procedimento è ok. Sto abbastando, sto tenendo la pasta. Non lo so, ho fatto il buco di qua, il buco di qua e non mi vengono.